In provincia di Pesero Urbino ci sono 45 conducenti di autobus che venerdì non esibiranno il Green Pass, non sono vaccinati e non hanno intenzione di sottoporsi a tamponi sistematici per avere la certificazione. Una situazione che i vertici di Adrebus hanno palesato all'assessore regionale trasporti Guido Castelli e presentato ieri al prefetto Tommaso Ricciardi mettendo sul tavolo una impossibilità a svolgere mansioni che inevitabilmente si ripercuoteranno in disservizi alla collettività. Adrebus e AMI hanno fatto sapere che davanti a questa situazione sarà necessario rimodulare le corse dei bus anche alla luce della carenza di personale conducente alternativo e dell'impossibilità attuale a procedere con nuove assunzioni. Impossibile garantire l'attuale completezza del servizio ma l'intenzione dell'azienda di trasporti di concerto con l'ufficio scolastico e la stessa prefettura e di salvaguardare le corse del mattino più frequentate in quanto dedicate a studenti e lavoratori pendolari. Una situazione che resta in divenire e che auspica di vedere sensibilmente abbassato già da venerdì il numero attuale di 45 dipendenti e di altre tre defezioni in altrettante categorie del personale.